qui a fianco a me Lorenzo Masieri eccoci e poi il direttore Fabio Ranfi buongiorno a tutti allora come state cosa fate dove andate come sempre potete raccontarcelo al 331 7853555 quest'oggi puntata bella piena bella pregna di notizie e anche di ospiti giusto? oggi ci sarà con noi Giancarlo Restivo chi è? chi è? chi è? per parlare del tema della sicurezza sul lavoro ah vabbè tema importantissimo il tema che sta vincendo in questo momento sul ritmo di notizie è ovviamente il caro vita e sono tornate le tende ma ne parliamo dopo esatto va bene sono tornate le tende allora dicevamo i giornali locali sempre qui davanti a noi i siti cartacei anche sentite ecco il giornale cartaceo benissimo chi mi sta vedendo sa cosa ho preso e dicevamo sono tornate le tende sono tornate le tende davanti al Politecnico di Milano perché non si dice non abbiamo ancora ottenuto i risultati sperati ma sappiamo benissimo che non li otterrete mai no 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 non volevo dire questo ah no scusa settembre è il mese della ripartenza e tutto ne abbiamo parlato anche lunedì con la nostra piccola ripartenza ma questo porta con sé anche delle polemiche sostanzialmente il fatto di far venire al pettine dei nodi che non si sono ancora sciolti un riccio come te credo sia un problema anche personale ma Poletti parlava ad esempio lunedì Filippo diceva già solo il caro scuola più 10% sulla cartoleria già solo quello insomma ieri sentivo qui le mamme di alcuni 350 euro di libri per la prima superiore mi ricordo non ho mai tenuto con una maggiore cura qualcosa rispetto al cedolino che ti davano agli elementari per scontare i libri ho questo flash qua che proprio lo chiudevo dentro il diario stavo attentissimo tu sai che non ho mai fatto nulla di tutto questo sai di cosa sto parlando sì no 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 io avevo già tanto che guardavo i libri di scuola quindi è tutto invece sta ripartendo una proposta ho visto appunto sui giornali per unire i due rengari di Piazza Duomo insomma con le due strutture molto belle insomma che ci sono sulla destra guardate il Duomo a destra ok ecco quei due lì dove c'è da una parte il Museo del Novecento dall'altra c'è la sede del Municipio 1 e da quanto ho capito anche il Museo del Novecento che vorrebbe un attimino sconfinare sull'ultimo piano e c'è una idea no? l'idea è quella appunto di creare questa passerella ma se ne parla già da tempo poi adesso il sindaco sale tornato sull'argomento dopo mesi di silenzio su questo punto di vista dicendo che stanno finalizzando la discussione sulla passerella in Piazza del Duomo e l'obiettivo è lanciare presto la gara e iniziare lavori entro la fine dell'anno prossimo per vedere i risultati alla fine del 2026 ecco non incominciamo con polemiche sterili perché in internet ovviamente ci sono foto di render di qualsiasi passerella cioè dalla passerella ferroviaria a quella di vetro che manco si vede a quella del ponte di Indiana Jones ok ecco nel senso quindi non state a guardare le foto che trovate in rete ai tempi una delle principali critiche era il fatto che fosse troppo futuristica la passerella di vetro in un contesto così storico però se ci pensi insomma è proprio il futurismo è roba di quella roba lì nel senso cioè chi ha costruito l'area in gara parliamo dell'epoca fascista era molto propenso a quell'idea del futurismo e tutto quindi in realtà quasi quasi gli fai un regalo secondo me ad aggiungergli un pezzo così futuristico dentro nella costruzione comunque staremo a vedere ripeto non guardate le foto che trovate in rete perché davvero c'è di tutto adesso sto guardando c'è una passerella in vetro molto bella lineare stile Apple tipo Apple Park ce n'è un'altra invece a X che sembra una roba che devono passarci treni merci che vanno a stazione centrale invece comunque appunto non guardate quello aspettiamo di vedere dicevo quando è che inizieranno la gara quando è che apriranno la gara e l'obiettivo è la gara prossimamente iniziare i lavori entro la fine di quest'anno entro la fine dell'anno prossimo e vedremo che passerella avremo lì Paradise welcome to the paradise city when the grass is green and the girls are pretty potrebbe essere Milano ma chissà sta di fatto che Milano potrebbe magari la seconda la prima non si parla dell'erba del pacco Sempione non era quella è verde è verde insomma non lo so a proposito di pretty girls e pretty city ci scrivono al 33178535555 che insomma è interessante l'idea della passerella tagliare in gari scrive Adriana e dice che cambierebbe in più il volto di Piazza Duomo insomma ci sta effettivamente cambiare un po' ogni tanto senza stravolgere completamente ci può stare ci scrive anche Alberto buongiorno Milano buongiorno Fabio buongiorno Lorenzo buongiorno così pulito ma infatti è un good morning Milano anche a voi cos'è che stavi leggendo poco fa? stavo leggendo del cantiere che solleva molte polemiche in Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires i commercianti come molto spesso in queste occasioni vogliono chiaramente salvare la propria il proprio commercio e quindi magari ci sono tutti quei disagi dati appunto dai cantieri soprattutto perché si tratta di due lavori di riqualificazione che sono partiti insieme che è l'allargamento dei marciapiedi come sappiamo su Buenos Aires e la riqualificazione della piazza e sostengono i negozianti pur a follia partire insieme uno dei due progetti dovrà slittare in effetti forse partire insieme nella cosiddetta Milano dei cantieri bla 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 forse non è non è questa idea più geniale che c'era da fare vero è che però quando finisce basta è tutto finito invece il rischio il rischio dell'altra parte è che finiva il Buenos Aires e si attaccava con Loreto e abbiamo tutto ci metto in 10 anni però non lo so ho visto molti video sui social che girano di automobilisti che si lamentano di aver bloccato un'arteria della viabilità forse il problema è proprio che Buenos Aires è un'arteria della viabilità il problema è che una via come Buenos Aires sia un'arteria infatti il problema è quello anche perché ricordiamo le grandi polemiche sulla pista ciclabile ad esempio in Buenos Aires polemiche che non hanno portato a niente però nel senso che hanno portato e oggi pubblicheremo su Milano il News una tabella proprio comparativa tra gli incidenti stradali e poi quindi anche i incidenti mortali con coinvolte biciclette tra le città di Milano Parigi Berlino Madrid Londra e Roma chi vince la classifica maglia nera per incidenti per il numero totale di incidenti con coinvolte biciclette Milano no Londra però sono 9 milioni e 700 mila abitanti che ha 7.420 incidenti nel 2022 contro i 5.400 di Milano ma questi 5.400 incidenti in Milano hanno provocato 138 morti i 7.400 di Londra solo tra molte virgolette comunque 123 quindi comunque con 9 milioni di abitanti loro quasi 10 e un milione e mezzo praticamente noi noi siamo la prima città tra queste comparate con il più alto numero di incidenti mortali coinvolte biciclette ho fatto anche una media proprio grossolana così mensile ahimè sono 11,5 decessi al mese nel 2022 c'è poco da commentare Fabio questi dati purtroppo sappiamo che è un grande problema che appunto come diciamo sempre la città che vuole essere da 30 all'ora la città che vuole essere dalla della viabilità green forse non si può permettere anzi sicuramente non si può permettere e per rimanere in tema ci colleghiamo con la redazione di Luce Verde per il traffico in questo momento su Milano Adam Foyer Sunshine Prescription prescrizione di soleggiamento di Alba ah scusa ah giusto Alba effettivamente avevo tradotto le lettere sono Google ciao sono Google Translator mi ricordo un recente sketch dimmi Estrascione ah sì sembrava un po' Estrascione ciao sono Estrascione sembrava così va bene comunque allora adesso stiamo per arrivare alla nostra mezz'ora tra parentesi quindi fra pochissimo abbiamo qualche consiglio per gli acquisti e come sempre la doppia canzone prima di appunto i nostri consigli ma 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 comunque noi torniamo perché noi siamo qui fino a quando caro mio Lorenzo siamo qua tutti i giorni dai 7 fino alle 9 quindi ci sarà ancora tempo per stare in compagnia appunto avremo un ospite sapete benissimo che ogni giorno ci sarà sempre qualcuno per per stare sulla notizia alla fine e e ritornando alla notizia prima delle biciclette stavo leggendo adesso da Corriere della Sera Milano che la ciclista che è stata lunedì pomeriggio travolta in sulla su Ascanio Sforza è ancora in coma in situazioni gravissime appunto all'ospedale questa ciclista 55 anni ha appunto investita su Ascanio Sforza insomma abbiamo visto i dati ve lo diciamo ancora ripubblicheremo appunto i dati su Milano News per farvi capire un po' quale è la situazione qui comunque c'è da intervenire diciamo anche a sindaco magari domani abbiamo un pezzo di istituzione milanese qui ospite magari parleremo anche di questo tema che insomma è abbastanza importante 7 e 27 minuti siamo arrivati appunto alla prima mezz'ora caffettino forse a questo punto ci vuole bentornati 7 e 35 minuti eccoci più carichi di prima mercoledì 13 ho avuto un ginseng io niente però non ho mai capito cos'è il ginseng per me non è caffè ma non è la stessa ma poi il ginseng c'è su una foto che sembra lo stesso è dello zenzero ma non è lo zenzero no non lo so ginger non c'entra niente non credo no è solo una casualità una casualità una casualità invece non sono casuali le notizie che troviamo in giro e che possiamo raccontarvi qui in diretta grazie all'ottimo Lorenzo che cosa ci ha trovato sui giornali molto velocemente ritorniamo su sindaco sala che apre ancora ha l'idea dei Deor chiusi a mezzanotte per spegnere la Malamovida titola la Repubblica Milano più volte viene fuori questa idea poi per una roba o per l'altra naufraga potrebbe essere secondo te una buona idea per chiudere Deor a mezzanotte secondo me non è no ok cioè non c'entra nulla anzi peggio chiude a mezzanotte il Deor e poi la gente rimane fino alle 2 in piazza comunque quindi non cambia niente quindi non c'è neanche il titolare del locale che esce fuori come sempre a dirti abbassate la voce per favore che chiamano i carabinieri i Deor non sono il male del mondo tolgono posteggi sì è vero ma in qualsiasi città del mondo tu vai è pieno cioè Parigi è un Deor continuo ma anche a Copenaghen cioè dove ci sono 28 gradi sotto zero fra una settimana cioè no anzi secondo me servono in Europa succede anche di più perché viviamo la città così se no ci chiudiamo nei locali torniamo in Tanta chiusi nei locali nelle discoteche sottoterra e basta no invece stiamo fuori stiamo lì è una rotura di balle per chi ci abita certamente quello sì poi dipende anche lì ci sono delle situazioni che non solo a darsena che sono situazioni invivibili ormai però lì non sono i locali lì è proprio la gente incivile e quindi lì devi andare e trovare una soluzione per cui metti la pattuglia ma che faccia qualcosa non che stia lì solo a guardare o che intervenga quando c'è quello che fa il bagno nella darsena forse bisognerebbe anticipare un po' i tempi assolutamente e poi citiamo questa notizia invece un po' più un po' più simpatica diciamo perché il comune di Arcore comune in mano al centro-destra dà l'ok al patrocinio per il Pride che si terrà a Monza sabato 16 settembre in realtà non acceleriamo troppo perché in realtà si è trattato di un errore dal comune da un'email partita per errore ma come partita per errore succede ma no che non succede succede a mia mamma anche io infatti mi sono sorpreso anche quest'estate ha fatto 47 minuti di audio con Whatsapp che ci è stato in tasca abbiamo sentito metà della messa della domenica però c'è un comune non manda una mail di ok al patrocinio per sbaglio mi ricordo che ci sono stati precedenti di altri errori di patrocini dati per errore o confermati per errore non so se hai memoria no più di uno più di uno comunque trovo queste notizie sempre un po' allarmanti sullo stato anche di come si lavora dell'amministrazione e sì nel senso che c'è una mail che è fatta per sbaglio per una cosa così importante poi soprattutto importante da quanto so insomma mai avrebbe fatto una cosa del genere forse allora la giunta di centrodestra di Acro e invece parte una mail per sbaglio ma o qualcuno gli ha voluto fare uno scherzetto all'interno del comune ma chissà sarà partita qualche indagine interna chissà chissà sta di fatto comunque che sempre bisogna combattere un po' su questi fronti per patrocini o non patrocini 747 minuti crystal radio sempre qui in diretta dagli studi di San Siro di Milano all news aspettiamo i vostri whatsapp come sempre arrivano tanti saluti tanti saluti e baci come in questi casi 3317853555 e oggi caro Fabio oggi ci colleghiamo con Paul Paul chi è Paul Paul? lo so chi è è quel polipo che ti diceva che vinceva i mondiali si ma tipo dieci anni fa ma non è complimenti per la memoria no ha un profilo instagram che si chiama nati per nascere a Milano non ho sbagliato si chiama proprio nati per nascere a Milano lo conosci? ma credo forse si di conosce ma adesso sentiamo adesso ci colleghiamo guarda Paul Paul colleghiamoci sentiamo cosa c'ha da dirci Loredana Vertè comunque posso dire Rinata si da quando hai incontrato quei due credo siano i bundapesh quanti sono non ne ho idea ma che mai non so se erano i bundapesh o Takachi e Keidra o sono le stesse persone no non sono le stesse persone quello quello è d'assodato comunque Rinata fantastica si devo dire che tra tutte queste qui che si sono messi a fare questo tipo di musica che insomma potrebbe potremmo discutere ecco lei secondo me è l'unica che se lo merita sì perché ha fatto la sua bella carriera adesso così si diverte un po' un po' come Morandi con Giovanotti no? con Robazzi però il momento di maggiore acclamazione di Loredana Vertè nell'ultimo periodo ricordo essere durante quel Sanremo di Baglioni in cui è arrivata al quarto posto e ha detto facciamo come Baglioni no è arrivata al quarto posto e tutto l'Arison si è messo a gridare Loredana e lì invece era più Sestè cioè era più comunque tu e Sanremo veramente io e Sanremo siamo un binomio inscindibile quanto emozionante all'ultimo Sanremo il momento di Grignani e Arisa allora molto allora gag a parte la cazzola di Grignani era veramente emozionante ma quando poi ha fatto ripartire tutta l'orchestra quando ha detto un'altra volta un'altra volta di pazzo è proprio stato veramente rock quel momento sì la vera cosa rock e trasgressiva di Sanremo 2023 diciamolo non altri con sex toys in mano sul palco di Sanremo sempre con la polemica pronta assolutamente assolutamente e riuscirò a farti appassionare anche all'Eurovision secondo me quest'anno ce la farò va bene con tutte queste mattine e non lo sappiamo ancora con tutte queste mattine si sa che si fa in Germania però appunto non sappiamo ancora bene dove comunque no non è vero si fa in Germania ho sbagliato comunque adesso piccolissima pausa velocissimi andiamo in pausa due canzoni tra cui la prima non potete non ballarla ed eccoci qua di nuovo 8 e 11 minuti simple minds don't you le sminti semplici beh sì simple minds che hanno appena annunciato un tour in cui ci sarà anche Milano sì vengono qua dove vengono ad Assago quindi non vengono a rompere le balle a San Siro all'epotramo a proposito appunto tema della puntata di domani in cui avremo la presidente del municipio 7 Silvia Fossati che verrà a parlarci proprio di questo avremo anche poi un contributo dalla presidente del municipio 8 invece Giulia Pelucchi perché insomma si sono trovate con un'estate in cui gli eventi tra San Siro l'ipodromo di San Siro diciamo quello che è proprio attaccato allo stadio e l'ipodromo la Maura quello che alcuni chiamano treno bravo come fai tu che siete ignoranti no scherzo quindi Maura San Siro quello che vengono chiamato ipodromo Snai che c'è dietro allo stadio quello del pezzale lotto per intenderci e poi appunto allo stadio è successo che ci siamo trovati con eventi in contemporanea su almeno due di queste tre venue almeno due luoghi in contemporanea la risposta del comune di Milano è stato il tetto agli eventi che secondo i municipi e non solo mi permetto di dire non è sicuramente la soluzione principale va bene ok mi metti un tetto ma mettimi anche il fatto che non possano esserci a 300 metri 400 metri di distanza l'uno dall'altro lo stesso cioè delle così grandi manifestazioni perché non è che c'era il mio compleanno e i vasco rossi avevi i Rolling Stone da una parte e Candy Clamart dall'altra cioè dei concertoni dove insomma avevi è stata un'estate un po' caliente gli ipodromi e tutte quelle distese là di terra ospitano concerti da non da un diciamo pubblico pagante non inferiore alle 50.000 persone praticamente sì sì la maura amicidiana ma anche i festival che fanno comunque l'ipodromo appunto quando c'è poca gente se va male ci sono 20.000 persone cioè se va male in più c'è anche un altro tema che io questo lo porto avanti sempre che è quello della segnaletica e dei nomi che diamo ai luoghi aver chiamato San Siro ipodromo la fermata della Lilla ha portato che tutti quelli che pensano andare al concetto dell'ipodromo scendono lì che invece non c'entra nulla perché o va in lotto per uno oppure devi scendere a San Siro stadio e fate un bel tocco a piedi per andare dall'altra parte quindi insomma anche lì come sempre un po' di confusione ci è capitato quest'estate di vedere gente con fascette di cantanti vagare per i quartieri in cerca della meta così accaldati prima agosto tutto chiuso anche luglio però poi il grande problema è all'uscita da quei grandi eventi è quello perché effettivamente i concerti a differenza magari della partita di stadio dove si va un po' tutti insieme anche all'inizio il concerto no si arriva tutti alla chettichella chiunque viene in base al posto eccetera il problema è l'uscita e 80.000 persone che di colpo vengono a insomma a buttarsi sulle strade della nostra città prima leggevo una notizia un po' particolare adesso vediamo se la ritrovo che non era neanche no adesso l'ho ben persa comunque ah no vi ricordo una cosa nel frattempo oggi è il 13 settembre ultimo giorno disponibile per poter andare al cinema a vedere Paolo il documentario su Enzo Iannacci vengo anch'io appunto questa bellissima racconto di un paio d'ore fatto veramente molto bene con tantissime testimonianze con anche delle storie che non sempre si sanno come ad esempio ve lo do questa anticipazione ma è emozionante poi vederlo raccontato dalla persona stessa dai protagonisti una bellissima lettera scritta negli ultimi giorni di vita di Enzo Iannacci indirizzata da Enzo Iannacci a Vasco Rossi con Vasco Rossi proprio che racconta in prima persona questa storia emozionante ovviamente facendo emozionare tutto il pubblico in sala ancora questa sera 13 settembre ultima sera buona 8 e 19 minuti oggi mercoledì 13 settembre appunto vi ricordavo ultimo giorno buono disponibile per poter andare a vedere al cinema il documentario su Enzo Iannacci vengo anch'io prima parlavamo del caro casa caro affitti e tutto sala è tornato ancora anche sul tema degli affitti brevi dice che insomma le norme che arrivano dal governo centrale non bastano non vanno bene per una città come Milano sono troppe comunque 20.000 case il governo intervenga ci vuole una legge ahimè caro però sindaco sala mi viene da dire che però forse la prima cosa che sarebbe da fare qui è dare un occhio alle proprie risorse quante case sfitte ci sono a Milano del del comune quindi gestite da MM e soprattutto anche di Aler regione Lombardia lo so ti è rimascottante so che riuscite sempre a litigare e riuscite sempre a dire è colpa sua è colpa mia forse questa volta qui sarebbe dire che chi se ne frega di chi è la colpa ma mettetevi insieme a discuterne e prendiamo queste migliaia di case sfitte o inagibili oppure che non sono più consone a certo tipo di affitti e cerchiamo di convertirle prendiamo i sottosogli ad esempio quei famosi appartamenti piccolissimi che non possono più essere dati a delle famiglie e ci inventiamo magari il fatto di mettere più sottosoglia insieme e farli diventare una sorta di campus per gli studenti fuori sede ad esempio che magari potrebbero risparmiare qualche soldo non andare a spendere migliaia e migliaia di euro in affitti con affitti che ormai per delle camere singole per delle camere in condivisione quindi non da soli arrivano a sforare anche a sfiorare i 700 euro al mese cioè cose assurde non neanche in zone troppo centrali o vicine all'università insomma sappiamo che la città è diventata sempre più cara e lo sta diventando una piccola cosa mi sono accorto di questa cosa qui magari non lo sapete cioè che un menù kebab costi 8 euro incomincia a dire forse siamo arrivati alla frutta con tutto il bene che voglio soprattutto ai miei amici del kebab di Vianovara però insomma è davvero davvero complicato riuscire a capire come mai questa città continua a non voler bene ai propri cittadini ai propri milanesi che insomma fanno fatica sempre di più a vivere questa città lo facciamo quasi come fosse una sfida estrema uno sport estremo sapete quelli sponsorizzati dalla Red Bull dove ti buttano giù da una montagna oppure ti fanno fare il bungee jumping vestito da unicorno ecco ormai vivere a Milano sta diventando un'esperienza estrema sempre di più cercando di tra parentesi fare cose che sono già successe in altre città cioè New York si è spopolata a un certo punto adesso sta cercando di tornare un po' sui suoi passi ma è difficile poi tornare indietro e quindi rischi che diventino città senza un'anima reale con abitanti che la vivono solo e esclusivamente per prenderne il più possibile fagocitare mangiare e poi digerire il tutto e sputtarlo in qualche angolo e invece insomma Milano sappiamo che è tradizione è storia è anche accoglienza di tutti quelli che vengono a Milano i fuori sede coloro che vengono a cercare lavoro fortuna e che poi magari inventano e fanno anche grandi grandi situazioni qui nella nostra città e allora siamo arrivati invece al momento importante e serio della nostra trasmissione infatti ecco come l'abbiamo rotto chiediamo quindi scusa all'ospite di oggi Giancarlo Restivo buongiorno Giancarlo buongiorno buongiorno a tutti allora con Giancarlo ovviamente parliamo di sicurezza sul lavoro perché tu sei tra tutte le cose poi adesso vediamo che c'hai un passato da musicista un futuro da scrittore ma sei anche il segretario generale della nazionale sicurezza sul lavoro che è la nazionale di calcio appunto che cerca di sensibilizzare e portare in giro appunto il tema della sicurezza sul lavoro esatto lo scopo delle nazionali sociali la categoria si chiama così è quello di andare in giro per l'Italia e promuovere i valori ok nel nostro caso specifico sono i valori del buon lavoro e della sua sicurezza e quindi noi che ci identificano un po' come la nazionale rappresentativa del mondo del lavoro il giornale ormai ci chiamano così gli azzurri del lavoro promuoviamo i valori della sicurezza sul lavoro ci chiamano i safety players ci chiamiamo i safety players e quindi adesso siamo appena reduci dall'HSK Roma giocata con la nazionale parlamentare la nazionale vaticana come è andata? secondi ha vinto il vaticano il quadrangolare va bene sono spinti dall'alto quindi no esatto esatto però come dire ci siamo giocati la finale fino alla fine è andata molto bene ottimo e adesso fra poco altro appuntamento qua vicino a Milano perché sei da Bergamo giusto? fra poco? esatto per la coppa del mondo del lavoro il 30 settembre nel Bergamasco al Cologna al Serio allo stadio Facchetti ci sarà l'evento più importante dell'anno è l'evento maggiore che giochiamo tutti gli anni che è la coppa del mondo del lavoro appunto che verrà giocata con la nazionale giornalisti RAI la nazionale sindaci è una rappresentativa città della cultura perché diciamo appunto Bergamo è città della cultura composta dall'ATS e dagli imprenditori il tessuto imprenditoriale del territorio allora interessante che la vostra nazionale viene definita la nazionale del lavoro quindi fa capire quanto il tema della sicurezza del lavoro è fondamentale quando si parla di lavoro quindi è vero che è un tema difficile con il lavoro perché ce n'è poco è difficile i ragazzi hanno fatica a trovarlo quando lo trovano poi è anche complicato tenerselo e farlo in sicurezza però giusto? esatto per noi la sicurezza sul lavoro non è qualcosa di appiccicato al lavoro ma è qualcosa che è coincidente la sicurezza sul lavoro viene comunicata un po' molto come servizio posso dire quasi come una scocciatura a volte sì sì cioè che cavo devo mettere il caschetto e che cavo devo mettere tutte queste norme di sicurezza che sarà mai e poi i giornali ci rispondono capire percepita come come un peso pubblicizzata dai giornali o comunque dai media in generale quasi sempre ha fatto accaduto e mentre noi cerchiamo innanzitutto di comunicarla come passione per la vita e per il lavoro per noi il senso del lavoro coincide col senso della vita quindi se uno ha una prospettiva positiva per la vita anche una prospettiva positiva nel lavoro e quindi per noi avere un orizzonte appassionato per la vita questo influisce anche nel lavoro e poi anche la chiave di lettura che diamo alla sicurezza sul lavoro per noi è una tradizione un modo di lavorare quindi una questione di metodo è una questione come dire un contenuto tutte le volte che accade un fatto noi possiamo imparare da quel fatto e quindi trasmettere quello che impariamo per questo lo chiamiamo tradizione per questo lo chiamiamo capito capito chiarissimo quindi insomma è imprescindibile come dicevi il tema di sicurezza il tema lavoro sono imprescindibili allora Giancarlo io ti chiedo di rimanere ancora qui con noi perché continuiamo appunto a parlare con Giancarlo Restivo dopo una piccolissima pausa come sempre qui su Cristal Radio e siamo ancora qui con Giancarlo Restivo facciamo un po' chiacchierando fuori diciamo appunto come il racconto delle situazioni poi avviene solo a fatto avvenuto fatto più grave tra virgolette migliore per il giornale così almeno fa un bel po' di click poi però dal giorno dopo non se ne parla più invece tu dicevi attenzione per la soluzione del lavoro poi è un tema se tralasciato che va a toccare la vita di tante persone esatto dicevamo prima non è disgiunto dalla vita ok quindi noi non pensiamo solo anche al fatto estremo no? quindi il la morte sul lavoro no? pensiamo anche a un infortunio importante pensiamo cioè ci sono dei fatti che possono accadere nel lavoro che comunque ti cambiano la vita ti cambiano il rapporto con la vita se hai un infortunio importante il tuo modo di vivere cambia completamente dal giorno dopo che ti è accaduto devi riabituarti a vivere in una determinata maniera se vogliamo guardare al caso estremo gli affetti di quella persona gli viene cambiata la vita quindi ogni cosa che noi facciamo influisce sulla realtà circostanze immaginiamo come cambia invece un fatto dirompente come un infortunio come la morte sul lavoro quindi è determinante condivido assolutamente il fatto che debba essere un campanello d'allarme costante nella vita lavorativa e non ti volevo chiedere Giancarlo soprattutto in riferimento ai recenti fatti di Brandizzo sappiamo benissimo la tragica vicenda si parla sempre si utilizza sempre il termine come dici te a posteriori la strage era evitabile ecco cosa si può fare adesso si sta parlando fuori onda dei corsi per esempio cosa si può fare di concreto cioè come possiamo evitare per rendere realmente evitabile per rendere realmente evitabile e non dirle basta sì Lorenzo allora più cosa si può fare posso dirti cosa noi facciamo cosa stiamo cercando di fare ok beh innanzitutto dal punto di vista legislativo abbiamo fatto una proposta che è stata approvata e adesso aspettiamo l'attuazione che introdurre la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in Italia tutti venivano formati a parte la figura apicale la figura che decide la figura che ha necessità di avere maggiori competenze che ha bisogno di avere le chiavi di lettura su questo problema siamo riusciti a far approvare questa questa norma è una norma che abbiamo promosso sin dall'inizio su nostra iniziativa come nazionale italiana sicurezza sul lavoro ma anche come nuova organizzazione di imprese che è l'associazione italiana di imprenditori che io presiedo in Italia e abbiamo portato questa cosa quindi adesso si aspetta un accordo stato-regione attuativo di questo tipo di formazione quindi già un passo concreto abbiamo iniziato a farlo dopodiché molto interessante effettivamente perché il mulettista e la receptionist fanno il corso per la seguenza sul lavoro in imprenditore no effettivamente tu dici anche se non per fargli capire la responsabilità che ha su chi sta sotto di lui esatto è proprio questa la chiave di volta che vogliamo introdurre nel guardare al problema e l'altro argomento su cui stiamo lavorando è l'educazione perché per noi la sicurezza sul lavoro è una proposta educativa dicevamo prima un modo di lavorare per cui stiamo promuovendo una proposta di introdurre la sicurezza sul lavoro all'interno del percorso di educazione civica nelle scuole perché i ragazzi sono i lavoratori del futuro per cui dobbiamo lavorare sulla prevenzione per lavorare sulla prevenzione devi comunicare la sicurezza sul lavoro attraverso una forma educativa e quindi quale ambito migliore dell'educazione civica quanto Giancarlo secondo te è andato a influire anche il fatto del cambiamento del lavoro cioè una volta si lavorava un punto più in fabbrica e quindi forse avevamo questa idea della sicurezza forse nonostante ci fosse meno sicurezza c'era un po' più in testa tutti quanti stavamo anche più sicuri noi adesso insomma facciamo molti servizi siamo molti ore seduti ma però comunque la sicurezza anche in quei posti serve ed è importante quando forse abbiamo perso la percezione anche di quanto è importante la sicurezza per noi ma allora in realtà a ogni nuovo nato si ricomincia sempre da capo e quindi non è che si è persa la percezione noi normalmente abbiamo una percezione del rischio si chiama io dico sempre ce l'abbiamo dal naso a per terra uno dice ma a me cosa mi accadrà mai no? niente ok non abbiamo questa perché io sto sto attento ho il polso della situazione conosco il mio mestiere bene tutto giusto ma la questione non è cosa accadrà a te ma se tu la fai storta o se in qualche maniera come dire la fai a casaccio quella cosa lì produci una serie di circostanze cioè ogni cosa che noi facciamo bella o brutta che sia produce circostanze o dritte o storte ok sulla vita delle persone che ci stanno attorno se noi che ne so ad esempio mio figlio si sveglia tardi stamattina ok oppure fai capricci per non andare a scuola e io arrivo in ritardo in ufficio e tutti ritardano in ufficio che cosa vuol dire? vuol dire che la libertà individuale in sé nell'esperienza non esiste esiste la libertà sociale per cui dobbiamo avere questa consapevolezza direi che su questo bell'esempio della squadra di calcio perfetta cioè se ti passa la palla male non si va in rete esatto è quello quindi ecco forse dovremmo fare tutte informazioni anche sul campo con voi appunto adesso quindi quali saranno i prossimi passi questo allora un designo di legge cioè la richiesta di questo designo di legge molto interessante ci vorrà ancora un po' di tempo però giusto mi dicevi per l'attuazione allora sull'accordo stato-regioni in realtà si attende a pochissimo datevi la mossa ok che si sbrighino su questo aspetto perché sono già in ritardo tra l'altro dall'anno scorso non mi stupisce saperlo non so perché Giancarlo non mi stupisce esatto quindi poi l'introduzione abbiamo elaborato già un testo che verrà presentato molto probabilmente alla Coppa del Mondo del Lavoro appunto per introdurre la sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'educazione dell'educazione civica poi noi stiamo siamo in tutta Italia tutto l'anno a giocare partite per far trasformare la sicurezza sul lavoro in un come dire in una sensibilità di popolo ok è un po' come la fede per noi perché è importante comunicare noi diciamo due aspetti il motto della nazionale è la sicurezza sul lavoro si fa in squadra quindi già questo dà la percezione che non è non la produce il singolo ma la producono non è una questione individuale esatto non è una questione individuale ma poi noi invitiamo la gente a tifare per la sicurezza sul lavoro perché un valore in sé è astratto noi pensiamo all'amore l'amore normalmente è astratto noi pensiamo tutta la vita di cercare l'amore ma in realtà cosa è che cerchiamo? cerchiamo un volto qualcuno che ci voglia bene ecco questo accade anche per la sicurezza sul lavoro noi cerchiamo dei volti e quindi in questo caso la rappresentativa è una squadra che incarni questo valore non si è sentito quanta poesia nelle parole di Giancarlo molto ma perché come dicevo prima ha anche un presente futuro da scrittore che ci racconterà fra pochissimo dopo la prossima canzone adesso è il momento di Mahmood con Bario e poi appunto torniamo con Giancarlo Restivo che hai avuto anche un passato da musicista giusto? mi dicevi e che musicista ma ne parliamo fra pochissimo sempre qui in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano 8.45 a fra poco 8.48 minuti mercoledì 13 settembre siamo quasi in chiusura ma prima di chiudere appunto siamo qui con Giancarlo Restivo diciamo Giancarlo allora un passato da musicista no? tu hai avuto sì raccontaci un po' quello che è mi hai incuriosito eh sì mi hai incuriosito tantissime cose infatti esatto esatto no vabbè io suono e faccio il cantautore da tanti anni ho avuto diverse band io normalmente ho fatto rock italiano anche in inglese ho girato parecchio e niente tutto tutto poi come dire ha avuto un culmine a un certo punto ha avuto un culmine con il Saremo Music Award nel 2017 questo premio alla carriera dopo 20 anni da cantautore da musicista e questo in realtà ha aperto altre chiavi di lettura dovevi portarci un cd e lo mettevamo su cavolo di sapere perché siamo rimasti al cd su Spotify c'è ad esempio una antologi di 50 brani Giancantologi si chiama perché appunto a me mi conoscono come Gianc io sono molto fortunato perché tra i miei faccio l'imprenditore nell'ambito sicurezza sul lavoro i miei maggiori ascoltatori sono i dipendenti delle aziende miei clienti e quindi c'è un bel giro con cui ogni tanto che è anche un ottimo feedback del tuo lavoro evidentemente assolutamente del tuo lavoro da imprenditore assolutamente assolutamente appunto infatti c'è questa mia visione un po' a 360 gradi molto familiare rispetto a come normalmente sono visti i consulenti per la sicurezza sul lavoro e niente addirittura mi capita spesso che i miei live siano organizzati dai miei stessi clienti cioè clienti chiamano una serie di altri imprenditori una serie di amici e organizziamo una serata assieme per per suonare e cantare assieme e aggiungo un altro tassello alla tua biografia perché oltre a questo scrivi anche infatti adesso c'è invece un futuro anzi un presente da scrittore giusto? sì sì io recentemente recentemente ormai da qualche anno ho fatto un exploit con una trilogia composta da un romanzo una novella e un'opera teatrale una trilogia che si chiama intitolata Il destino nelle sue mani ok quindi un fantasy contemporaneo molto alla Dan Brown però in chiave italiana chiamiamola diciamo così in chiave tutta italiana che in realtà è diventato bestseller Amazon lo troviamo ancora sì lo troviamo su Amazon ricordiamo il titolo Il destino nelle sue mani perfetto Giancarlo Restivo Il destino nelle sue mani più tanti ho una collana di saggi in ambito sicurezza sul lavoro un'altra collana di saggi nell'ambito diciamo della tradizione cristiana perché appunto soprattutto in Italia noi non possiamo non parlare del nostro ma quando dormi la domanda è questa quando fai tutte queste cose c'è il resto ma in realtà scrivo tanto durante i viaggi durante i viaggi di lavoro in treno ne colgo l'occasione perfetto allora Giancarlo grazie davvero di essere stato oggi qui il nostro ospite ricordiamo Bergamo Bergamo il 30 settembre la coppa del mondo del lavoro esatto nazionale sicurezza sul lavoro e poi tante altre nazionali appunto per fare una giornata insieme nell'insegna appunto della sicurezza sul lavoro dove possiamo trovare qualche informazione sulla nazionale c'è un sito internet www.nazionalesicurezzasullavoro.org perfetto grazie mille a Giancarlo Restivo e caro mio Lorenzo sai cosa ti dico? siamo arrivati alla fine eh sì